buongiorno a tutti mi chiamo valentina duccarelli conduco una trasmissione radio televisiva dal titolo l'uomo e ciò che mangia su radio rpl ho conosciuto il metodo del dottor garritano già da molti anni ho conosciuto la dieta antinfiammatoria del dottor francese garritano prima ancora di conoscere il dottore ho avuto il mio primo approccio con l'immunologo attilio speciani attraverso la cui metodologia alimentare legata alle intolleranze alimentari mi ha consentito di superare tutta una serie di problematiche di natura allergica successivamente ho incontrato il dottor francese garritano nel corso di interviste all'interno della mia trasmissione perché si occupa anche di intervistare ospiti professionisti nel caso del dottore un biologo nutrizionista molto valido il quale è sicuramente il metodo di aver approfondito l'interazione tra una corretta alimentazione e le diverse patologie autoimmuni quindi la mia testimonianza assolutamente la testimonianza favore spesso ospite il dottore in trasmissione e e quindi consiglio a tutti quanti sicuramente la lettura di questo libro che è fondamentale per capire capire appunto le cause delle patologie autoimmuni saluto saluto saluto